Adesso presenterò la sesta e ultima violinista, Plastinska Sofia, di nazionalità e cittadinanza ucraina, di 18 anni. L'ordine dei brani sarà il seguente. Primo brano, Sivori, studio capriccio numero 7, dall'Opera 25. Come secondo brano, Bach, adagio e fuga dalla prima suonata in sol minore. Come terzo brano, Libiser, variazioni sostenuto, veloce e rivace dalla tecnica superiore del violino. E come ultimo brano, Mozart, cadenza in A maggiore, KV219, primo movimento e cadenza di Joachim, accompagnata da Sinaisky. e come ultimo brano, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti